Siamo con Luigi Saviolo, vicepresidente di Angra Nazionale. Luigi, come si terrà il convegno di apertura della fiera in campo di quest'anno? Il convegno di apertura sarà in realtà una tavola rotonda. Dopo i saluti istituzionali classici del presidente Mezza, ci sarà una breve relazione sulla nata agraria scorsa, sulle criticità che ci sono state, soprattutto dal punto di vista irriguo, ma anche agronomico e sulle situazioni di mercato attuale che stiamo vivendo, che è molto ovviamente perturbata. Dopo questa introduzione, sullo spunto di questa introduzione, ci sarà invece una tavola rotonda tra il presidente di Cofagricoltura, Massimiliano Giansanti, il presidente dell'Enterisi, Paolo Carrà, e stiamo aspettando la conferma, ma speriamo anche nella partecipazione del ministro delle politiche agricole, direi proprio prigida. E in sua assenza eventualmente verrà mandato sempre un personaggio del ministero. Ci saranno altre iniziative a contorno della manifestazione? Ci saranno molte iniziative in fiera e in più, la novità rispetto, penso, agli altri anni, sarà una conferenza in fuori fiera, ci sarà martedì sera il 21 febbraio, quindi il martedì prima della fiera. Al Salone Dugentesco arriverà Luca Mercalli, un famoso climatologo, e parlerà della situazione del climate change, di quello che sta succedendo a livello globale, ma con un focus importante sulla pianura padana e sul nostro areale risicolo. Sarà un momento per legare il mondo agricolo con la cittadinanza vercellese, visto che sono argomenti e criticità che dobbiamo affrontare tutti insieme e che interessano a tutti. Grazie.